Noi scardiniamo questo sistema non soltanto restituendo i soldi, non soltanto rendicontando le spese che abbiamo, ma anche disinteressandoci del clientelismo. Noi non abbiamo bisogno di curarci un bacino di voti, semplicemente perché dopo questa esperienza che dura 5 anni o al massimo 10 anni, quindi due legislature, torneremo a fare quello che facevamo prima. E' sempre molto imbarattante, salve, puoi parlare dopo. Ma niente, io comincerei con un paio di aneddoti che racconto spesso ma che vi danno l'idea di quello che noi facciamo all'interno dei palazzi. Perché quando poi ci dicono voi sì fate solo opposizione, vi racconto perché io lavoro in commissione di bilancio.